Vieni, fanno il birbette, eh? Ti spaventate? Eh, un po' sì. Passato subito, dai. Che bello, un buon rispo di insola, è sempre contento. Ma io? Ma se non si è in posa, eh. Ma se non si è in posa? Ma se non si è in posa, eh? Ma se non si è in posa, eh?